Ricapitolando, si è buttato in mare, recuperato il drone, impacchettato, spedito a DJI ed è arrivato quello nuovo. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore Oh, I'm feeling tonight that look in your eyes, but we better get some more Oh, I feel it behind you buongiorno buongiorno sequel del video del drone caduto in mare primo volo che dire come si comportata la dji è stata fantastica non mi hanno inviato mail niente però sono andati subito da fare niente mi hanno inviato il drone sostituito direi perfetto direi tanta roba il test si conclude qua direi che è stato un test molto positivo il drone ancora lì che vola abbiamo fatto vedere un paio di immagini di questa zona di albisola molto carina che dire sei stato bravo sei buttato in mare recupera la carcassa un po tipo capitano falli quello che ha tirato sull'adson dai tutto sommato siamo soddisfatti mi raccomando iscrivetevi al canale